L'arte in tutte le sue sfaccettature torna protagonista dando la possibilità ai giovani della zona di salire sul palcoscenico ma anche di esibire le proprie opere. Come e quando è nato questo progetto d'oro? Allora l'idea parte da lontano, una serie di iniziative che ho svolto nella galleria e è stata una bella idea quella volta e ha continuato negli anni successivi. Nel 2020 al prelato sono partito insieme a dei colleghi artisti del calibro di Patrizzi, Picinetti eccetera in buona compagnia con Eccessi d'amore, una iniziativa per festeggiare Raffaello e l'anno successivo al prelato per ricordare il futuro sempre con contaminazioni artistiche. Poi l'anno scorso l'ultima estate con De Camerone 22. Quest'anno ho pensato di trasferirmi in città, sarò alla Rocca Malatestiana. Continuiamo su questa linea, cerchiamo di coinvolgere giovani artisti a tutto tondo, quindi pittori, scultori, musicisti, cantanti, ballerini, circensi, videomakers, fotografi eccetera. E vogliamo dare loro, a questi giovani ragazzi, la possibilità di esibirsi, quindi di farsi conoscere ad un pubblico più ampio. Fanesi e non solo? E non solo, sì, perché ho visto che stanno arrivando anche richieste di partecipazione da al di fuori. Principalmente avevo messo la diocesi Fanno Fossombrone e Caglipergola, di fatti abbiamo chiesto il patrocino della diocesi, del comune. Quando si svolgerà l'evento e come sarà suddiviso? Si svolgeranno nei giorni di 3 e 4 giugno, siamo in concorrenza con il prodotto ma il nostro pubblico è diverso, anzi prima si diverte e poi andrà a cena, quindi non ci sono problemi. Funzionerà così, in queste celle ci saranno degli espositori già dal pomeriggio, pittori, scultori, fotografi, questi più adulti che faranno da tutor a degli artisti emergenti, quindi esporranno insieme, questo nelle celle. Nel dopo cena avremo lo spettacolo, quindi ballerini, cantanti, poeti e tutto il resto. Non sarà una gara? No, no, al momento no, pensiamo proprio deve essere un bel momento di gioia, di condivisione, non di competizione, no. Collaborazione e conoscenza reciproca delle varie attitudini e talenti. Come è possibile iscriversi e qual è la data di scadenza? Per aderire basta contattarmi a questo numero di telefono, come lo vedete 338 305 10 82.